Ecco qua, ti ho preso i lupini. I soldi per il succo di frutta non ce l'ho. Però a che condizione? Io non dico niente a nessuno. E comunque non è una cosa brutta, hai capito? Non c'è niente di male. Ma con l'amica e tu si baciavano tutte nude. Poi c'era una che si guardava con lo specchio. E un'altra che aveva tutti i peli in mezzo alle gambe. E mi voleva acchiappare. Shhh! E facciamola sapere a mezzo a Napoli, mi raccomando. Peppi, tu devi fare finta che non hai visto niente. Se no con noi non ti portiamo più, hai capito? Eh. Allora, com'è andata? Tati, quella ha detto tanta fatta che alla fine l'ho dovuta fare io la tua coscienza. Shhh!